Mi presento, sono Ilaria Iosue, sono la specialist della ProTigiani, che si occupa di seguire essenzialmente la linea di citoflorimetria dell'azienda. Ringrazio il dottor Alessandro Serra, che sarà il relatore di questo webinar, che è appunto il Flow Setometry Field Application Scientist della Luminex, e il dottor Francesco Pacella, che è il specialist della Luminex. Entrambi lavorano sia sul territorio dell'Italia, che sul territorio spagnolo e portoghese. Prima di lasciare la parola ad Alessandro, volevo rapidamente farvi vedere, mostrarvi in questa slide, la linea di citoflorimetria che la prodotti già. Mi sviluppa, che è caratterizzata dalla presenza di sia strumentazione, grazie alla collaborazione appunto con la Luminex, e sia ad un'ampia parte di reagenti dedicati, grazie alla collaborazione con Luminex ed altri appunti o nostri partner. Per altre informazioni potete contattarmi e io lascerò per questo motivo i miei recapiti all'interno della chat box. Vi chiedo di inserire le vostre domande a fine webinar da porre ad Alessandro nella stessa chat box e Alessandro sarà lieto di rispondere a tutti voi. Non tolgo altro tempo all'inizio di questo webinar e lascio la parola ad Alessandro. Grazie ancora a tutti. Ti do il controllo a Alessandro e ti lascio la parola. Non ti sentiamo però. Stavo dicendo, non ho controllo sulla presentazione. Te l'ho rilassata. Adesso sì, adesso sì. Ok, perfetto. Quindi, chiudo la mia... Mi presento, sono Alessandro e sono lo specialista applicativo degli strumenti di citometria della Luminex. Oggi introduco questa tecnologia Amnis che permette di avere sia microscopia che citometria in simultanea per i vostri esperimenti. E prima di iniziare chiudo la mia camera per evitare problemi di banda sulla trasmissione. Quindi, volendo introdurre la tecnologia, e questa è stata introdotta nel mercato circa 20 anni fa, con il primo strumento nel 2005. Fino ad arrivare ai giorni nostri con uno strumento di terza generazione, che è l'Amnis ImageStream X Mark II, affiancato a sua volta da uno strumento più compatto che è il FlowSite. E poi, sempre basato sulla tecnologia Amnis, che descriverò tra poco, vi è un citometro sviluppato di recente chiamato Amnis CellStream. La tecnologia Amnis di Imaging in flusso permette nuove applicazioni, in quanto offre un'impareggiabile sensibilità fotonica, che permette di rilevare anche piccole particelle, oltre alle cellule, e permette quindi di svolgere una microscopia ad high throughput per una robusta analisi cellulare. Perché combinare insieme l'acetometria e la microscopia in un unico strumento? Perché l'acetometria, nonostante permetta l'analisi rapida di campioni complessi, con elevato potere statistico, misura esclusivamente intensità di segnale, e non è in grado di fornire né informazioni sulla localizzazione del segnale nell'oggetto osservato, e né di conseguenza generarne immagini. La microscopia è in grado di fornire informazioni molto dettagliate sia sull'intensità che la localizzazione cellulare del segnale, ma implica una lenta acquisizione del campione, è statisticamente molto limitata nei numeri, ed ha una maggiore suscettibilità ad un approccio soggettivo. Nei citometri Amnys si è riusciti a creare una sintesi ottimale tra i vantaggi delle due tecnologie, ottenendo uno strumento capace di generare in breve tempo migliaia di immagini microscopiche supportate sia ad analisi grafica simile a un citometro, che permettono un'analisi d'insieme statisticamente significativa. Alessandro, scusami se ti interrompo, ma io vedo la presentazione di lato molto piccola, quindi non so se c'è un problema con la condivisione. Non lo so, mi hai detto che vedevi la slide. Prima, ora non più. Puoi ricondividere un attimo, perché vedo... Ok. Un attimo. Ora cosa vedi? Ora vediamo benissimo. Grazie. Quindi questo si traduce in una capacità dell'operatore di poter verificare la reale identità di ogni singola cellula acquisita, che quindi non è più solo un punto su un grafico, ma bensì un'immagine diretta che agevola nella discriminazione, per esempio, tra un fenotipo reale, come una singola espressione di marker CD16 da parte dei neutrofili, CD14 da parte di monociti umani, ed un artefatto, come un'apparente doppia positività, che è in realtà dovuta a doppietti cellulari. Quest'approccio offre numerosi vantaggi. Innanzitutto rileva e separa nettamente popolazioni brillanti da popolazioni temi. Vede le immagini delle cellule in tutti i canali disponibili sullo strumento e quantifica obiettivamente parametri morfometrici ed informazioni spaziali, cosa che non è assolutamente possibile ai normali citometri. Molti laboratori sul continente stanno usando questa tecnologia da anni, creando nuove applicazioni, e la base installata è in crescita costante. Questo ha permesso agli utenti dei citometri visuali o imaging flow cytometers, AMNIS, di elevare l'impatto della propria ricerca e pubblicare sulle riviste più prestigiose. Si stima che si pubbliche almeno un articolo scientifico al giorno, contenente dati creati con tecnologia AMNIS. Vorrei spiegare ora più nel dettaglio come funziona lo strumento. Il principio di funzionamento sia dell'image stream che del flow site è il medesimo. Come un citometro convenzionale, la fluidica utilizza sheet fluid, ma con il miglioramento di un controllo accurato dei volumi immessi di sheet e campione tramite microsiringa ad alta precisione. Questo significa che in ogni momento il volume totale è misurato e quindi questo permette anche di svolgere delle conte assolute o delle misure di concentrazione anche del campione. Nella cuvetta le cellule in flusso sono illuminate simultaneamente da luce LED per generare le immagini in campo chiaro e fasci laser per generare le immagini fluorescenti e il side scatter. Il percorso ottico per la luce emessa è interamente analoga a quello di un microscopio che trasporta la luce fino ad un blocco di filtri che separa le diverse componenti di ciascun colore e le proietta su un settore specifico di un sensore ad altissima sensibilità fotonica, che è una camera a CCD, producendo immagini chiare a fuoco composte da vari canali in tre magnificazioni possibili, 20x, 40x e 60x. Tutte le analisi successive, come i grafici, sono una conseguenza delle misurazioni effettuate a partire dalle immagini. Per chi non avesse ancora familiarità, gli Amnist FlowSight e ImageStream sono i due unici citometri visuali o emerging flow cytometers disponibili sul mercato. Entrambi hanno la capacità di acquisire e salvare immagini microscopiche ad alta risoluzione del campione analizzato. Il FlowSight, sulla sinistra, è lo strumento più semplice tra i due, con ottica ed illuminazioni pressoché fisse. L'ImageStream, invece, sulla destra, è uno strumento disegnato per conferire la massima flessibilità in termini di magnificazione e di illuminazione del campione, in altre parole, altamente espandibile e customizzabile. Vediamo qui rapidamente le specifiche di entrambi gli strumenti e vediamo che, per esempio, per trarre delle differenze, l'ImageStream ha la maggiore portata di cellula a secondo, così come la capacità di offrire una acquisizione dell'immagine a più magnificazioni. Oltre al fatto di poter montare più laser simultaneamente e poter anche montare la miglioria, che vedremo più avanti, dell'Extended Depot Field, ovvero sia dell'espansione, dell'estensione del campo focale. Vorrei adesso un attimo spiegare come il sistema elabora le immagini e le trasforma in dati numerici. In questo esempio vediamo l'immagine di una cellula, come viene catturata dallo strumento e tutti i pixel che la compongono. All'interno di ogni pixel è indicata la quantità di segnale misurata. Questo perché ogni pixel sul sensore è caratterizzato da tre parametri, la sua coordinata X, la sua coordinata Y e la quantità di segnale misurata. Il software di analisi usa combinazione di questi tre valori per determinare la forma, la complessità interna e la posizione degli elementi dell'immagine. Qui elencate vediamo le diverse maschere utilizzabili per analizzare regioni di interesse nelle immagini. Questo perché ogni volta che il software seleziona dei pixel da utilizzare, svolge un'operazione di selezione chiamata mascheratura. C'è un'ampia flessibilità nei criteri alla base delle diverse maschere che permettono di considerare, per esempio, l'intera sezione di una cellula, la parte interna della cellula, solo la membrana oppure un'area di contatto fra più cellule. Le features, invece, sono gli algoritmi che permettono di esprimere matematicamente le categorie di analisi mostrate nelle schermate precedenti. Per esempio, abbiamo l'area che calcola l'estensione, i micrometri quadrati dell'intera superficie dell'oggetto, l'aspect ratio o proporzioni aziali, che dà l'informazione riguardo al fatto che l'oggetto sia più rotondo o più ellittico. Abbiamo poi l'intensità di segnale, che equivale alla misurazione di intensità di segnale sul normale citometro, e poi abbiamo anche altre features, come per esempio la similarity, che vedremo anche nel dettaglio più avanti, che esprime quanto il segnale su più canali è sovrapponibile o colocalizzante. Paragonando le cellule acquisite, quindi, sulla base di canali singoli o complesse immagini composite, è possibile elaborare dei criteri quantitativi di similitudine o differenza tra due cellule o popolazioni di cellule. Per esempio, per il criterio della dimensione avremo immagini dall'area estesa ed immagini dall'area ridotta. Nella categoria della posizione potremmo avere delle sonde sovrapposte o separate e così via. Quindi, ci sarebbe il caso di chiedersi se i processi di biologia cellulare che si vogliono studiare non si possono vedere direttamente e quantificare, come si può credere che avvengano realmente? Per esempio, grazie alle uniche funzionalità di Amnese Image Stream, che non sono possibili per i normali citometri, è possibile visualizzare e quantificare una miriade di processi. Vediamo ora più nel dettaglio come le applicazioni dell'Amnese Image Stream sono applicabili alla ricerca immunologica o oncologica. Partiamo quindi qui con un esempio di identificazione diretta di cellule tumorali circolanti. Che nel caso dell'immunologia potrebbe essere applicata all'identificazione di cellule rare o nel caso dell'oncologia potrebbe essere utilizzato per protocolli di biopsia liquida. In un campione di sangue umano, marcato per espressione di CD45, che è un marcatore di superficie normalmente espresso da cellule del sangue, e invece EPCAM, che è un marker di adesione di cellule epiteriali tumorali circolanti, sulla base quindi di queste due molecole è possibile identificare rapidamente due popolazioni di cellule principali, cellule normali del sangue e cellule tumorali, che inoltre mostrano grandi dimensioni. Tuttavia, grazie alla capacità di introspezione dell'Image Stream, che non sono possibili a normali citometri, si possono anche distinguere aggregati di globuli rossi, ma soprattutto perché avrebbero portato ad una sottostima del tumore circolante, cellule false negative e cellule positive nascoste all'interno dei doppietti. E questo mostra, molto rapidamente, l'alto potere analitico dell'Image Stream, capace di identificare cellule false positive, false negative e vere cellule tumorali, ma molto rare. Passiamo ora a un esempio di caratterizzazione di segnale intracellulare nella forma di traslocazione nucleare del fattore di trascrizione NFKB. Nel campo dell'immunologia, questo tipo di esperimento potrebbe essere utilizzato per caratterizzare degli adeovanti vaccinali, oppure per studiare dei meccanismi di infiammazione o di attivazione cellulare, oppure per studiare delle citochine. Nel campo dell'oncologia, questo tipo di esperimento potrebbe essere applicato a studio di attivazione di cellule tumorali, individuazione di biomarker o caratterizzazione dell'attività di farmaci. In questo esperimento, delle cellule della linea THP1 sono state stimolate con l'ipoporisaccaride, o LPS, che è un derivato da batteri gram-negativi ed in grado di indurre un potente stimolo pro-infiammatorio tramite recettori di tipo TOL. In seguito alla stimolazione, le cellule sono state fissate e permeabilizzate e marcate intracellularmente per visualizzare la localizzazione di NFKB e del nucleo. NFKB tramite un anticorpo coniugato con Fizi ed il nucleo tramite un intercalante di DNA, che è il DRAG-5. In questo caso sono state acquisite 20.000 cellule per condizione ad una magnificazione di 20 per. Nel caso di cellule non stimolate o cellule non rispondenti all'LPS quando saggiate, NFKB è localizzato nel citoplasma. Questo è chiaramente visibile dalla separazione o non sovrapposizione netta del segnale verde e rosso all'interno delle cellule. In questo caso, se utilizziamo un parametro matematico per definire la correlazione di pixel verdi e rossi con alta intensità di segnale, troveremo una correlazione negativa, in quanto il segnale verde è confinato nel citoplasma, mentre il segnale rosso è concentrato nel nucleo. Trambi i tipi di segnali sono localizzati tramite due maschere, che identificano due regioni di interesse, una per i pixel verdi ed una per i pixel rossi. Il parametro matematico utilizzato per definire la correlazione tra i due segnali e quindi la traslocazione di NFKB è il similarity translocation for score, che è una delle features introdotte nelle prime schermate. Nel caso invece di cellule attivate con LPS, il segnale verde è fortemente spostato nel nucleo della cellula e sovrapposto quindi alla marcatura nucleare. In questo caso quindi la correlazione è positiva, così come il valore della feature. Nell'analisi di un campione di cellule trattate con LPS e analizzate quindi dopo un dato intervallo di tempo, possiamo rappresentare la risposta biologica allo stimolo tramite un istogramma della feature similità similare di Translocation Score, tra NFKB ed il nucleo marcato con Drag 5. Ai due estremi del grafico troviamo le cellule che non hanno ancora risposto, che hanno quindi i valori negativi ed i più bassi della feature, e cellule invece che hanno fortemente risposto e mostrano i valori più alti della feature. Tra questi due casi ci sono tutte le cellule del campione con livelli intermedi di traslocazione al momento del saggio. Passiamo ora ad un tipo di analisi che non è possibile per i citometri convenzionali, ma che lo è invece con Amnys Image Stream, e cioè lo studio dettagliato di interazioni fra più cellule, quindi non solo cellule singole. In questo caso andremo a vedere un esperimento di formazione di sinapsi immunologica. Questo tipo di esperimento, se svolto in campo immunologico, si può supportare studi sulle interazioni fra cellule T e le cellule presentanti antigene, può essere utilizzato per caratterizzare antigeni o processi di segnale intracellulare. Nel caso dell'oncologia può essere utilizzato per caratterizzare l'efficacia di CAR T cells, oppure può essere utilizzato per caratterizzare dei checkpoint inhibitors e può essere anche usato per studiare le interazioni fra cellule tumorali e cellule non tumorali. In questo esperimento, la linea B derivata RAGI è stata usata come cellule presentanti antigene, o APC. La stimolazione è realizzata tramite incubazione con SEB, o Staphylococcal Enterotoxin B, che lega in maniera non specifica il complesso MHC con il recettore delle cellule T, che in questo caso sono state isolate da sangue umano. Le cellule sono state quindi mescolate e lasciate in cultura, dopodiché sono state fissate e permeabilizzate e marcate per anti-C19 per identificare le cellule B, anti-CD3 per identificare le cellule T, DAPI per marcare i nuclei delle cellule e la falloidina per marcare l'actina. Quindi le cellule sono state acquisite all'ImageStream ad una magnificazione di 60x. Il primo gate utilizzato comprende eventi coincidenti che includono almeno due cellule. Quindi si selezionano gli eventi doppio positivi per CD19 e CD3, cioè gli aggregati che contengono sia cellule B che cellule T. Dopodiché, dando la capacità esclusiva dell'ImageStream di valutare la forma degli oggetti, sulla base della feature dell'aspect ratio sul canale di fluorescenza dei marker di superficie di 19 e CD3, vengono quindi selezionati degli aggregati che contengono solo una cellula B rotonda e che contengono solo una cellula T rotonda, ottenendo così aggregati composti da una sola cellula B ed una sola cellula T. La formazione della sinapsi in un doppietto tra una singola cellula T ed una singola cellula B è rilevata usando una semplice strategia di maschere su più canali. Innanzitutto, il doppietto intero è selezionato mascherando la sua area totale dell'immagine in campo chiaro. Poi, la posizione della cellula CD3 positiva è individuata mascherando l'area del doppietto positiva per CD3. La schiera di interfaccia è attentamente ridimensionata per cogliere l'area tra i due nuclei del doppietto, facendo in maniera tale che questa si sovrapponga all'area occupata dalla concentrazione di actina, rilevata con la marcatura tramite falluidina. Sulla base di questa strategia di maschere vengono calcolate due features che identificano aree dove molecole di CD3 e CD19 sono sovrapposte se questa sovrapposizione correla con aree di alto segnale di actina. Il grafico generato permette di identificare sulla destra cellule a contatto con volte in sinapsia attiva, mentre invece è anche possibile identificare cellule a contatto ma che non hanno sviluppato una sinapsia attiva nell'angolo in basso a sinistra. Questo esperimento mostra anche che la percentuale di cellule che hanno sviluppato una sinapsia attiva è quasi 10 volte superiore ai controlli quando vengono trattate con SEB. Questo sistema di base per la rilevazione di interazione attiva tra cellule T e antigen presenti in cells può essere ulteriormente espanso per includere, per esempio, il coinvolgimento di molecole costimulatorie sulla superficie delle cellule, come LFA1, facendo quindi un ulteriore lavoro di studio di collocalizzazione, oppure attivazione e traslocazione intracellulare di fattori di trascrizione in risposta all'interazione produttiva fra le cellule. Vorrei parlare adesso di alcune uniche possibilità che l'ImageStream offre per la caratterizzazione delle vescicole cellulari ed exosomi. Nel caso di studi immunologici, questa capacità della tecnologia possono essere utilizzate per caratterizzare patogeni, interazioni tra patogene e ospite, caratterizzare vaccini oppure strumenti di drug delivery, così come studiare l'efficacia di anticorpi vaccinali o terapeutici. Nel caso dell'oncologia, queste capacità dello strumento possono essere utilizzate per sviluppare dei protocolli di biopsia liquida, per studiare dei modelli di metastasi, per studiare dei fenomeni di trasformazione cellulare dovute a infezioni con particolari patogeni, così come caratterizzare degli strumenti, come per esempio delle vescicole, per il trasporto di farmaci e per studiare anche, in questo caso, l'efficacia di anticorpi terapeutici. Le vescicole extracellulari sono una categoria molto eterogenea di oggetti e i ricercatori ne riconoscono almeno tre tipi sulla base della loro origine cellulare. Gli exosomi derivano dalla via endocitica, le microvescicole invece si separano direttamente dalla membrana cellulare per gemmazione. I corpi apoptotici sono rilasciati dalle cellule morenti. Tutti i sottotipi possono essere di dimensioni simili e quindi è difficile separarli fra loro solo per questo parametro. È anche importante ricordare che sia i virus che i batteri hanno dimensioni molto simili agli exosomi e le microvescicole. A seconda del processo di formazione e delle cellule di origine, le vescicole extracellulari esprimono sulla loro superficie dei marcatori specifici, come CD63 e CD81, ma che possono anche questi essere condivisi fra tipi differenti di vescicole. Se utilizziamo degli oggetti ad alta rifrazione ottica, fatti di plastica compatta, come biglie di polistirene florescenti per la calibrazione dei citometri, si può vedere che la discriminazione di piccole particelle basate sul size cutter è equivalente, sia che si usi il laser a 742 nanometri dell'Image Stream o il laser a 405 nanometri di altri modelli di citometro sul mercato. D'altra parte, quando gli oggetti osservati sono vere vescicole costituite da una piccola quantità di biomolecole racchiusi in un doppio strato lipidico e quindi dotate di rifrazione ottica a quasi nulla, che a sua volta induce un size cutter a sua volta a quasi nullo, ciò che cambia la qualità dei risultati è la capacità dello strumento di rilevare le bassissime quantità di fluorescenza trasportate da queste particelle, quando queste sono marcate con un anticorpo o esprimente all'interno delle proteine fluorescenti. In questo caso, l'alta sensibilità fotonica del sensore CCD dell'Image Stream è capace di separare nettamente le vescicole dal rumore di fondo, mentre un citometro convenzionale non lo è. Uno dei vantaggi principali nell'osservare le vescicole extracellulari con un imaging flow cytometer è la possibilità di poter ispezionare visualmente ogni singolo evento e questo permette di escludere tutti gli eventi coincidenti o sciami composti da più oggetti in simultanea e concentrare l'analisi su veri eventi singoli, portando ad una considerevole riduzione di falsi positivi o falsi doppi positivi per un dato marker. L'Image Stream permette anche l'identificazione di vescicole extracellulari in campioni grezzi non purificati, permettendo un'analisi diretta di campioni clinici, per esempio. Qui è mostrata la progressiva chiarificazione della popolazione R5 consistente di vescicole man mano che il campione va incontro a successivi passaggi di centrifugazione e filtrazione finale. Si può vedere che la popolazione R5 può essere individuata e ben circoscritta già prima della purificazione, grazie al riscontro incrociato fra immagini e quantificazione citometrica. L'Image Stream ha la capacità di rilevare le vescicole anche quando queste interagiscono con le cellule, come in questo esperimento, dove vescicole marcate in superficie con un anticorpo specifico per CD63 sono state aggiunte ad una cultura di cellule per un esperimento di internalizzazione, mostrando come sia possibile visualizzare e poi eventualmente quantificare l'internalizzazione di exosomi o vescicole da parte delle cellule. I dati mostrati finora sono basati sulla sensibilità di base dello strumento, che è già molto superiore alla maggior parte degli strumenti sul mercato. Tuttavia, l'ultima versione dello strumento include un potenziamento della camera, chiamato High Game Mode, che aumenta ulteriormente la sua sensibilità, permettendo di rilevare particelle ancora più piccole o espressione molto deboli di marcatori da parte delle vescicole. Inoltre, gli utenti hanno anche l'opzione di installare un laser opzionale, che è un laser blu a 400 mW di potenza, che offre un'illuminazione ancora maggiore, se paragonato al laser standard a 200 mW. Se qualcuno fosse interessato ad approfondire l'applicazione della citometria visuale alle piccole particelle, vorrei introdurre un e-book che abbiamo realizzato in collaborazione con Biocompare e che contiene diverse linee guide e protocolli che si possono provare a implementare sull'ImageStream. Il libro è scaricabile dal sito di Biocompare oppure ottenibile tramite richiesta al mio indirizzo e-mail. Vediamo ora come l'Imaging Flow Cetometry può essere utilizzata per studiare la vera controparte del sistema immunitario, i patogeni. Infatti, l'alta sensibilità fotonica del sensore dell'ImageStream X Mark II permette di visualizzare facilmente i microbi come virus e batteri. Quindi nel campo dell'immunologia questo rende possibile caratterizzare i patogeni, le interazioni fra patogene e ospite, caratterizzare l'efficacia di vaccini o vettori vaccinali che possono essere basati su virus o batteri e permette poi di caratterizzare l'efficacia di anticorpi vaccinali terapeutici o meccanismi di drug delivery. Nel campo dell'oncologia questo permetterà di studiare fenomeni di trasformazione dovuti a infezioni con determinati patogeni oppure meccanismi di drug delivery su cellule tumorali attraverso vettori virali oppure sempre lo studio dell'efficacia di anticorpi vaccinali terapeutici. Infatti, l'alta risoluzione dell'ImageStream può essere utilizzata per studiare la capacità infettiva di virus. In questo esperimento, per esempio, si è studiata l'internalizzazione di adenovirus da parte di cellule alveolari trasformate, generando una cinetica di infezione. Infatti, questo tipo di esperimento, come introdotto, può essere facilmente adattato per studiare anticorpi indotti da vaccino, deriva antigenica dei patogeni, anticorpi terapeutici, adiuvanti virali o meccanismi di trasporto di farmaci all'interno di cellule. Similmente ai virus, con l'Amnys ImageStream, è possibile anche visualizzare infezioni batteriche, come per esempio in quest'articolo, dove si è caratterizzata l'infezione di macrofagi da parte del Mycobacterium tuberculosis. In questo lavoro è stato possibile quantificare la crescita intracellulare dei batteri e la relazione fra invasività dei batteri e l'espressione di specifiche molecole sulla superficie della cellula ospite. Anche un sistema di questo tipo può essere facilmente adattato per lo studio dell'efficacia di vaccini o anticorpi terapeutici o implicazioni di variazioni antigeniche da parte dei patogeni. Vediamo ora anche come l'Amnys ImageStream è in grado di supportare esperimenti di fish o ibridizzazione fluorescente in sito. Per questo tipo di applicazione è importante ricordare che, come nella normale microscopia, anche sull'ImageStream, all'aumentare della magnificazione si ottiene in parallelo una riduzione della profondità del campo focale. Vediamo qui quindi un esempio di linfociti T marcati con delle sonde oligonucleotidiche per un esperimento di ibridizzazione in sito ed osservati alla magnificazione di 40x. Alla sinistra vediamo le immagini affette da aberrazione per via della normale profondità di campo focale di 4 micrometri. Mentre alla destra le immagini mostrano macchie discrete e chiare ad alto contrasto ottenute grazie all'espansione dell'Expander Depth of Field o EDF che quadruplica la profondità di campo focale a 16 micrometri. Ora vorrei parlare dell'applicazione dell'ImageStream ad altri aspetti dello sviluppo di vaccini e farmaci come per esempio la formulazione, la produzione, il controllo qualità e lo studio su effetti collaterali durante terapie sperimentali e studi sull'efficacia e il comportamento dei farmaci post vendita. Infatti, sulla base dell'alta sensibilità dell'ImageStream abbiamo deciso di creare un kit che permette a scienziati e operatori di rilevare facilmente il livello di aggregazione di proteine così come la presenza di contaminanti come batteri e gocce di silicone nei preparati. Questi tre tipi di contaminanti nei farmaci basati su proteine sono stati collegati allo sviluppo di effetti collaterali di natura immunologica o tossica. Vediamo qui dei dati rappresentativi generati dall'ImageStream che mostrano come il saggio sia in grado di rilevare molto chiaramente la presenza nelle formulazioni di batteri, aggregati di proteine, gocce di silicone e combinazioni di due o più di questi contaminanti. Quindi, questo dovrebbe a sua volta condurre al miglioramento della formulazione e processi produttivi dei farmaci. E pensiamo che l'uso di questo kit permetta l'eliminazione di componenti potenzialmente immunogenici o tossici attraverso un processo altamente semplificato. Infatti, il sistema permette di identificare ed eliminare rapidamente componenti immunogeniche e questo funziona su un'ampia gamma di concentrazione di contaminanti evitando di diluire i campioni. Infatti, richiede un bassissimo volume di campione che è di 20 microlitri come minimo. Concludendo, riteniamo che l'Amnys ImageStream è la piattaforma ideale per complementare più aspetti della ricerca immunologica. Un laboratorio con il nostro strumento può diventare facilmente e acquisire un ruolo centrale potendo supportare progetti su nuovi adiuvanti, la risposta immunitaria, caratterizzazione di patogeni e caratterizzazione di anticorpi e formulazione di vaccini o farmaci. Analogamente, nella ricerca oncologica, la centralità di uno strumento come l'Amnys ImageStream è naturalmente realizzabile per la sua capacità di supportare progetti su segnali intracellulare e biomarker, meccanismi di trasferimento di farmaci o trasferimento di oncogeni, caratterizzazione di CAR T-cells, inibitori di checkpoint, studio di altre categorie di anticorpi terapeutici, sviluppo di protocolli di biopsie liquide o studio di modelli di metastasi, studio di formulazioni, drug delivery e sviluppo di effetti collaterali in seguito a terapie sperimentali e permette di svolgere la FISH in flow, in flusso, che permette quindi anche di rilevare eventuali mutazioni tumorali. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato fino adesso e ringrazio anche la Prodotti Gianni per aver organizzato questo seminario e quindi rimango qui a vostra disposizione per eventuali domande. Grazie a tutti ancora. Grazie Alessandro per questa presentazione. Se ci sono domande vi ricordo potete scriverle nella chat box così che Alessandro possa leggerle e rispondervi. Allora, qui la domanda da Simona Pisanti ci sono applicazioni in ambito diagnostico. Lo strumento di per sé non è certificato per utilizzo di diagnostica però quello che posso dire è che ci sono dei centri che comunque hanno deciso di usare lo strumento in supporto alla diagnostica. Sono protocolli di richiesta di autorizzazioni che sono possibili in più paesi penso anche in Italia e i medici hanno deciso di utilizzare lo strumento a supporto. chiaramente è anche possibile per chi fosse interessato se volesse sviluppare una applicazione diagnostica da parte nostra supportare ecco il processo di certificazione. Ecco può darci qualche indicazione in più riguardo l'impiego dello strumento per valutazione dei vaccini beh per esempio si può utilizzare per vedere se per esempio abbiamo visto l'esempio della sinapsi immunologica quanto per esempio diversi vaccini candidati sono in grado di indurre una interazione più o meno forte per esempio tra cellula T o cellula tra cellula T e cellula presentante antigene un altro aspetto è che se abbiamo invece diversi candidati di adiuvante possiamo usare gli adiuvanti o su cellule singole o su cellule in interazione per valutare almeno in vitro la forza di attivazione delle cellule si può anche poi si possono fare anche degli studi ex vivo per esempio nel caso di uno studio di modello animale estraendo delle cellule da un organo linfatico secondario e valutando tutta una serie di parametri interni come forza di segnale interno espressione di molecole o particolari fenotipi o colocalizzazione di molecole intracellularmente oppure si possono anche fare degli studi estraendo il siero o dagli animali o dalle dalle persone e valutare quanto sono effettivamente efficaci i vaccini gli anticorpi scusate generati dai vaccini nel bloccare una adesione o un'internalizzazione tra cellule e patogeno o semplicemente sul patogeno stesso se sono in grado di legare in maniera efficace o effettivamente in corrispondenza degli antigeni che si è progettato l'anticorpo avrebbe dovuto riconoscere prego se ci sono altre domande a Mariele Montanari ho scritto la mia email in chat quindi può direttamente copiarla incollarla per mandarmi un'email e richiedere la coppia del libro sui protocolli sulle vescicole un'altra cosa che colgo l'occasione per citare riguardo l'utilizzo della tecnologia per lo studio di vescicole è che sono ora disponibili sul mercato dei kit che contengono delle vescicole di grandezza nota le quali sono marcate con degli intercalanti lipidici e questo permette di fare delle curve di calibrazione in cui c'è una diretta correlazione tra quantità di fluorescenza sulla vescicola e il suo diametro e quindi usando questi kit e usando gli stessi coloranti per marcare invece le vostre vescicole sperimentali si può misurare in maniera molto accurata la dimensione delle vescicole se questo è un tipo di parametro di vostro interesse per quanto riguarda la seconda domanda di Giulio Severi ovvero possiamo sapere qualcosa sui costi dello strumento vi rimando ad una interazione diretta e magari più privata con la prodotti Gianni su questo argomento vedo qui domanda di Office 01 esistono strumenti simili concorrenza ci sono degli strumenti che hanno delle funzionalità simili ma non funzionano esattamente per esempio c'è un citometro ora prodotto da un altro produttore non faccio il nome che permette di acquisire immagini in campo chiaro delle cellule ma queste sono solo immagini in campo chiaro sono acquisite in maniera completamente diversa dalla tecnologia che è utilizzata invece sull'Amnis e quindi non genera immagini sui canali di florescenza sui canali di florescenza che invece sono disponibili sugli strumenti Amnis è stato poi presentato da poco un cosiddetto imaging sorter ma in questo caso le immagini non sono immagini dirette sono immagini che sono estrapolate dal segnale sul fotomoltiplicatore quindi non è un'immagine diretta ottenuta da una camera in questo caso la magnificazione è molto inferiore cioè è solo 10x mentre nel caso dell'Amnis la magnificazione minima è 20x quindi è già doppia e inoltre questo secondo strumento è in grado di diciamo così generare delle immagini solo sui canali associati sul laser blu mentre invece nel nostro caso lo strumento è espandibile fino a 7 laser e le immagini sono ottenibili innanzitutto come immagini dirette su tutti i canali a disposizione dello strumento simultaneamente prego se ci sono altre domande se ci sono altre domande è un bel Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io vi ringrazio ancora, vi ricordo che la produttigiani è il distributore autorizzato Luminex per l'Italia, quindi potete fare riferimento come ricordato in chat anche dal dottor Bacella ai contatti del dottor Bacella per qualsiasi altro tipo di informazione, soprattutto legata alla parte commerciale. Detto questo vi ringrazio e spero abbiate trovato interessante il webinar e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti voi ancora una volta e speriamo di risentirci presto. Buona serata.